Ciao a tutti, sono Sara e queste sono le ricette no waste per l'alveare che mi ci sia. Oggi impariamo ad utilizzare la buccia del cetriolo per produrre un'acqua aromatica e rinfrescante. Partiamo con il tagliare le due estremità del cetriolo e togliere la buccia. Una volta ottenute le bucce, tagliuzzate le piccole, le mettete all'interno del bicchiere aggiungete qualche cubetto di ghiaccio, una fetta di limone, qualche foglia di menta ed infine acqua naturale o gasata. Questo è un ottimo aperitivo analcolico oppure potete anche conservarlo all'interno di una bottiglia di vetro nel vostro frigoriferlo e berla all'occorrenza. Grazie per la visione!